L'unica luce era il biancore silenzioso della neve. Mozart, in piedi dietro alla finestra dello studio, guardava i solchi scomparire e pensava ad altri solchi di ruote, lontani nel passato, i solchi della carrozza di posta che lo portava via da Torino, sulla strada del ritorno dopo un lungo viaggio in Italia. Tutto può rientrare nell'armonia, pensò, e l'armonia può medicare qualsiasi ferita, la sofferenza resta, ma è come se si avesse la certezza che non è vana. Ora che la vita gli stava aperta davanti come un libro di ricordi, sapeva che se non avesse avuto la sua musica sarebbe stato infelice. Grazie a tutti.